Sono Rita Integlia, sono estetista da 17 anni. La parte che mi piace di più del mio lavoro è il trucco. Amo tantissimo truccare e soprattutto truccare le spose, renderle felici. Il trucco sposa deve essere un trucco correttivo ma molto leggero. La sposa deve ritrovare lei il suo stile, le sue emozioni, come vive il suo quotidiano e deve riflettere questa sua bellezza interiore in quel giorno perché in quel giorno lei si deve specchiare e vedere il bello che c'è lei, il sentirsi donna e il sentirsi al centro di un'emozione. Ciò che io voglio regalare alle spose, ciò che cerco di regalare alle spose e l'essere protagonista quel giorno, però sempre mantenendo un aspetto naturale, quindi un trucco correttivo che valorizza in modo delicato il suo aspetto, quindi farla sentire raggiante, quindi luminosa, risaltare gli zigomi in modo molto naturale, mettere in evidenza le labbra sempre in modo naturale, di ricreare questa sua arcata sopraccigliare sempre in modo naturale ma deciso, oppure se abbiamo ecco una sposa un po' più barattina, divertirci anche con il trucco. Questa diciamo è la cosa che la sposa ti cerca.